E' chiaramente fondamentale nei percorsi Lean, oltre a quello che accade in azienda, bisogna tenere assolutamente presente e sempre in grandissima rilevanza quello che avviene all'esterno dell'azienda, quindi quelle che sono le soddisfazioni dei clienti e dall'altra parte invece quelli che sono le caratteristiche distintive e le peculiarità dei fornitori. Accanto a questo l'integrazione nei percorsi Lean dei fornitori, in particolar modo se si opera come la Colomo Filippetti in un settore tradizionale come quello della metalmeccanica, dove alcuni processi sono capital intensive e assegnati all'esterno, quindi difficilmente integrabili all'interno della propria struttura aziendale per ovviare al problema dell'integrazione nel flusso e nel flusso fluido come quello della Lean. L'integrazione con i fornitori può avvenire in diversi modi. Il primo modo chiaramente è quello del coinvolgimento, che è il modo più vincente e il modo che potrebbe essere la soluzione sempre migliore. E quindi l'integrazione con i fornitori è data non tanto dall'integrazione all'interno del processo e quindi il coinvolgimento nel processo produttivo, ma è data più che altro dall'integrazione, dall'interscambio informativo. Ormai questo tipo di tecnologie lo vediamo forse più spesso quando ci viene richiesto e quando ci viene indicato dai nostri clienti, e dai clienti, questo tipo di tecnologie informative e di interscambio che possano facilitare la gestione all'interno di un flusso Lean, chiaramente non integrandolo completamente, ma semplicemente andando a cercare una gestione interna di quello che è necessario prendere atto non possa essere gestito. Quindi in questo caso le risorse anche di cui si parlava poco fa diventano molto diverse e dedicate. Quindi da una parte ci sarà l'approccio e la standardizzazione di alcuni flussi e di alcuni processi con gli strumenti organizzativi più evoluti, quindi non necessariamente la Lean, ma comunque tutto quello che gli va accanto. Dall'altra parte invece dei sistemi che devono spingere moltissimo sugli strumenti, strumenti quindi di pianificazione, software e tools che consentono ormai una perfetta integrazione. Grazie a tutti!